Il 23-24 settembre vieni con i tuoi figli nel showroom Mercedes-Benz. Concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz, DAG Auto, variante Est, mano calzati. Annibale Discepolo, un brindisi benaugurante per l'altra faccia dell'Uver. Sì, è un brindisi ad una novità, se così vogliamo dire, anche se in fondo è una riscoperta di un'antica tradizione, ma ha un modo nuovo di intendere il vino, il territorio e di sviluppare lo stesso attraverso le bellezze, non solo dell'enogastronomia, nella fattispecie il vino che l'ambasciatore primario e Paternopoli è tra i migliori areali per quanto concelle l'Avianico, ma anche una riscoperta del territorio, antiche dimore e antiche tradizioni. Un brindisi ai giovani dell'Associazione Macerata? Sì, beh, sicuramente loro che sono stati bravi, coriacei a riscoprire questa tradizione che era stata un tantino abbandonata, quindi ben venga e ben venga che cresca soprattutto. Questa manifestazione era stata messa un po' da parte, accantonata, e l'abbiamo riproposta anche sotto una chiave di comunicazione, quindi abbiamo pensato all'altra faccia dell'uva perché volevamo fare una chiave innovativa, ma rimarcando quelle che sono le tradizioni, i valori antichi della cultura vitivinicola. Qual è il programma di questa iniziativa? Allora, il programma sostanzialmente si impronterà su un convegno, una degustazione nel ristorante Pater Familias, dove verrà fatta appunto la tematica del convegno, saranno i cambiamenti climatici, gli effetti che hanno sulla produzione vitivinicola, dove sarà presente anche come ospite Luigi Tecce, che è stato colui che ha vinto quest'anno il premio come Mior Vino d'Italia, e poi proseguirà con il convegno, cioè con la degustazione, dove ci saranno presenti delle cantine locali, vorranno assaggiare, sarà fatta una degustazione di prodotti tipici, accompagnata dai vini locali appunto. Qual è il messaggio? Credo anche questo, nel senso di far sì che i giovani si avvicinano con un approccio diverso, magari più goliardico a quelli che sono i passaggi delle stagioni, in questo caso la vendemme e la pigiatura. Sì, diciamo che l'idea sostanziale è di far capire anche alle nuove generazioni che oltre al prodotto finale c'è una storia da raccontare dietro a quel prodotto, e quindi sostanzialmente riscoprire questi valori risulta di notevole importanza, soprattutto per il territorio di Paternopoli che vive, potrebbe vivere soltanto di questo.